In questo programma vi faremo ascoltare tre brani di tre importanti compositori, Holst, Mendelssohn e Britten. Di quest'ultimo vi faremo ascoltare la Simple Symphony, che è una piccola sinfonia che ha l'appellativo di semplice sinfonia, che non sta per facile ma sta per semplice proprio perché è strutturalmente semplice, e che è scritta prendendo dei materiali che Britten aveva scritto proprio da bambino ed erano frammenti di musiche per pianoforte, tra i quali c'è anche questo graziosissimo waltzer. Il resto lo ascolterete al concerto.